chi di noi non è rimasto impietrito davanti a queste immagini chi di noi non è rimasto paralizzato dal terrore come davanti alla medusa chi di noi poi ha rotto il silenzio e si è chiesto io che ci faccio qui davanti allo schermo nella mia stanza mentre è accaduta una cosa così mostruosa tre bambini annegati insieme a madri e padri e fratelli altri migranti nel mediterraneo in una limpida giornata di sole io c'ero ci dice il fotografo della france press ero lì per voi e ve lo racconto ed è così forte così tremendo che noi qui adesso ci mettiamo sopra un piccolo velo cerchiamo forse in vano di attutire il colpo perché quello che è successo vicino alle coste della libia venerdì scorso è troppo troppo anche per la nostra capacità di assuefazione che ha digerito decine di naufragi migliaia di morti ore e ore di corpi che affondano mani che si protendono salvagenti vuoti e magari davanti alla strage degli innocenti a questa violenza oscena invadente qualcuno dicesse non mi fido di te reporter voglio vedere con i miei occhi toccare con le mie mani dove sei santommaso moltissimi piuttosto si lasciano intrappolare come pesciolini nella rete svendono a poco prezzo la propria attenzione prendono per vero chi dice che non è vero che non è successo è tutta una montatura si fanno incantare da chi gioca con i pixel e ha sempre pronto un grande vecchio colpevole di ogni complotto questa estate tra budapest e pontida va di moda george soros d'altronde abbiamo un esponente di questo governo che dubita dello sbarco sulla luna non può essere vero sembrano bambolotti si dice e sarebbe un ottimo spunto se ci facesse riflettere su quanto è irreale e offensivo morire così senza sangue e senza ferite gonfi di acqua nel mare nostrum o mare monstrum quanta acqua è passata e sopra le teste di quanti dai tempi di hailan tanta se la rabbia per l'ingiustizia cede il passo a sospetto della fregatura eppure di immagini non possiamo fare a meno l'operazione mare nostrum cominciò dopo il naufragio del 3 ottobre 2013 anche perché l'allora sindaco di lampedusa giusi nicolini volle che fossero diffuse le immagini delle centinaia di bare e allora immagini immagini malgrado tutto